Siamo molto contenti, questa sera abbiamo avuto questo incontro che si inserisce nell'ambito del percorso Spoltour specificatamente sul turismo archeologico. Abbiamo parlato delle bellezze archeologiche che sono collocate nella città di Spoltore e è stato un momento bello e utile anche per rafforzare la conoscenza di questi 18 siti che sono distribuiti in tutto il territorio comunale in tutte le frazioni tra l'altro che sono toccate a vario titolo dalla presenza di importanti tracce del nostro passato e questo perché noi riteniamo che sia molto importante sviluppare anche un interesse culturale e di turismo correlato che si deve necessariamente fondare su elementi di grande spessore e di grande pregio come quelli che derivano dalle tracce della nostra memoria più antica. Ci sono qui gli amici delle associazioni che hanno partecipato al percorso Spoltour che quindi sono veramente la forza di questo progetto che nasce da una forte sinergia tra l'amministrazione e le associazioni culturali e non del nostro territorio perché anche gli amici della Croce Rossa, dello Speleo Club, insomma oltre a quelli della Centenaria comunque stanno dando un bellissimo contributo e l'hanno dato per esempio per quanto riguarda l'ossario e il ritrovamento dell'ossario proprio nel centro storico, nella cripta della chiesa di San Panfilo dentro le mura appunto di Spoltore. Insomma tanti tasselli che vogliono costituire appunto un puzzle di iniziative di interesse per coltivare appunto l'amore per il nostro territorio e la sua promozione ovviamente.